Ciao streampellari! Allora, il video che state per vedere è un video a cui tenevo moltissimo di riuscire a realizzare. Qualcuno di voi lo sa, oltre a vari corsi, ho anche un club riservato, ristretto, con una serie di studenti che seguo mese dopo mese. Una specie di classe online. Ognuno di questi studenti parte da livelli diversi ed hanno problematiche diverse da risolvere oppure punti di forza da esaltare. E quindi nel corso dei mesi andiamo a lavorare sia nei punti di forza sia su quelle cose che bisogna sistemare. Ecco, l'impegno che ci hanno messo queste persone durante quest'anno è stato veramente degno di nota ed è per questo che ho voluto omaggiarli creando questo video. Ognuno di loro ha lavorato appunto sui propri demoni, tra virgolette, chi teneva il plettro troppo forte, chi premeva di più sulla tastiera, quindi si va a limare queste cose, chi mancava di espressività, abbiamo cercato di portarlo più sul creare un po' più emozione nel suo modo di suonare. Ecco, adesso li vedrei suonare e vorrei che pensassi a tutto quello che c'è dietro, tutto il lavoro che loro hanno fatto durante quest'anno in modo molto costante e per migliorarsi. Veramente un grande esempio tutti questi studenti. Ovviamente non sono tutti, sono solo una piccola parte perché siamo riusciti a organizzare questa cosa in poco tempo. Il brano che sentirei suonare è un brano che io ho scritto per loro, ogni mese ne scrivo uno dove andiamo a lavorare su alcuni aspetti. E se hai seguito la live di ieri sera è quello che ho suonato all'inizio della live e anche alla fine. Bene, quindi ho cercato di fare un arrangiamento e un collage video per mettere insieme le loro esecuzioni e spero che ti piaccia. Ricordati che il messaggio di questo video non è far vedere quanto uno è bravo, ma è far capire quanto lavoro ci sta dietro al percorso di un chitarrista e spero che possa motivare molti di voi a persistere. Andiamo a vedere il video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.